Firmata con l'Istituto di istruzione secondaria superiore Corbino, guidato dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Cascio, la convenzione tra l'istituzione scolastica e la BCC di Acquara, che darà la possibilità ai giovani studenti di maturare un'esperienza formativa nelle sedi del noto istituto di credito, si concretizza il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, rinominato con la legge 145 del 2018 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che offre agli studenti l'opportunità di raffrontare il proprio percorso educativo e favorire il miglior ottenimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Nel contesto attuale i PCTO possono infatti consentire agli studenti di acquisire o potenziare in stretto raccordo con i risultati di apprendimento le competenze tipiche dell'indirizzo di studi prescelto e le conoscenze trasversali per un consapevole orientamento nei percorsi di transizione professionale e alla prosecuzione degli studi nella propria formazione anche non accademica. Assodato che le alleanze e collaborazioni tra istituzioni del medesimo territorio e le conseguenti soluzioni messe in campo sono sempre più sinergiche, è possibile identificare le finalità della convenzione stipulata di potenziare e qualificare l'offerta formativa degli studenti dell'Istituto Corbino, permettendo loro di svolgere anche tirocini formativi presso le filiali della Banca di Credito Cooperativo BCC Aquara raccordando le esperienze formative in aula con quelle nel contesto lavorativo. Presente per la firma del protocollo d'intesa per la banca è il direttore generale Antonio Marino, il cui motto a suffraggio di quanto convenuto è proprio competenze per competere. La realizzazione di suddetta convenzione che pone gli studenti al centro dei processi educativi seguiti da tutor, scolastici e aziendali è un'iniziativa che ancora una volta dimostra la vicinanza della BCC Aquara al territorio e ai suoi giovani che avranno la possibilità di mettersi alla prova durante una concreta esperienza nelle diverse attività, farsi notare ed emergere.